Fermi tutti, questa è una rapina, parole pronunciate e rigorose a cento straniero, momenti di terrore verso l'ora di chiusura nella sala giochi Casinò Golden Play di Ceglie Messapica e il secondo colpo all'attività del 35enne Giorgio Ordone nell'arco di 10 giorni è servito. Sono circa le 21 quando due banditi a volto coperto, uno dei quali armato di pistola, fanno irruzione nell'attività di via canonico Vito Palazzo. All'interno ci sono pochi avventori. I due intimano sotto la minaccia dell'arma di consegnare il danaro contenuto nelle casse, ma queste ultime, essendo a tempo, non possono essere aperte. Per questo i rapinatori prendono di mila i clienti, cercando di fare bottino con i portafogli dei sei o sette avventori presenti, ma hanno appena il tempo di raffare la borsa di una cliente, la 43enne Elena Stefan, di origine rumena ma residente a Grottali. All'interno della borsa circa 150 euro, strappata la quale i malviventi si sono dati alla fuga. Sulle loro tracce ci sono i carabinieri della locale stazione, guidati dal maresciallo Sante Convertini e della compagnia di San Vito dei Normanni. L'ultimo colpo alla sala giochi Casinò la sera del 17 dicembre, quando sempre in due armati di fucile, questa volta si fecero consegnare l'incasso della serata, prima di sparire nel buio.